Ma che è il tuo cappello? Eh no, è per essere alto come te Vi siete chiesti chi vincerà la... Rifaccio Eeeh... Il cazzo di... Look casual e non solo Nella terza puntata del Banana Quiz Benvenuti Instagram TV salve Ma stai a riprendere? Bene, lo scoprirete nella terza parte della terza puntata del Banana Quiz Ma fa cagare Benvenuti Alla... Terza puntata Banana Quiz 2019